Buonasera a tutti, giornata indubbiamente poco significativa sui principali listini europei che come vi avevo già detto nel video di preapertura sono stati orfani della borsa americana che è chiusa nella seduta odierna per la festività del Martin Luther King Day. Questo irrimediabilmente ha causato un calo dei volumi, pensate che l'intero MTA ha scambiato soltanto 1 miliardo e 700 milioni, ma nonostante tutto ci sono tantissimi casi da esaminare perché sono uscite diverse notizie price sensitive, soprattutto al di fuori del Fuzzi Mib. Io purtroppo sono rimasto vittima di una di queste, ovvero quella su Do Value, ma ce ne occuperemo nel dettaglio tra poco. Vi spiegherò come ho gestito, vi anticipo già malissimo la posizione, ma come sono riuscito a compensarla con un'altra posizione che avevo nel portafoglio di medio e lungo periodo, ovvero Iveco. Perché era importante per me, ma lo è per tutti coloro che si trovano in situazioni di questo tipo, dove è possibile e quando non si gestisce al meglio una posizione già presente nel proprio portafoglio, cercare di compensare con un'altra posizione già in essere perché è importante, come vi spiegherò bene nel dettaglio tra poco, aver sterilizzato la perdita, anzi aver fatto un leggero guadagno sommando le due posizioni aperte, che poi ho chiuso questa sera nelle aste finali, ma soprattutto non bisogna dimenticare anche la componente psicologica, perché mentalmente riuscire ad uscire da una posizione fortemente perdente, comunque con un'altra che ti permette lo stesso di chiudere anche se poco in guadagno, è molto importante. Prima di iniziare devo, come ogni sera, ringraziare coloro che nelle ultime 24 ore hanno effettuato donazioni a favore di questo canale, ovvero Matteo, Emanuele e Deborah e vorrei soffermarmi particolarmente su Deborah perché è la seconda persona che effettua una seconda donazione in meno di un mese e è anche lei una donna per cui, visto che questo canale ha il 90% di uomini e il 10% di donne che guardano regolarmente i miei contenuti, devo fare un plauso a gente in sesso perché sta sbaragliando noi maschietti e visto che è una rarità numericamente parlando che le donne si interessino di finanza perché è sempre stato un interesse maggiormente da uomini, mi fa molto piacere che invece questo canale abbia, se mi permettete, anche la sua fanbase femminile. Però non perdiamo ulteriore tempo perché ci sono tantissimi argomenti di cui parlare, ovviamente partiamo dagli indici europei e qui abbiamo il DAX. La seduta di oggi non ha spostato nulla rispetto a quello che ci siamo detti nelle ultime sedute, siamo all'interno di un turning range compreso tra 16.448 e 17.003 che è il massimo storico, toccato il 14 di dicembre. Se volessimo essere ancora più precisi, in realtà la candela, la Long Black di giovedì, massimo 16.839, minimo 16.541, con chiusura a 16.547, è la candela Benchmark, perché vedete che sia quella di venerdì e quella di oggi sono contenute nella candela di giovedì, per cui possiamo già parlare di un sottorange compreso appunto tra 16.541 e 16.839. Andiamo adesso al Caccarant, vedete che anche qui abbiamo l'ampio turning range tra 7.350 e il massimo storico di 7.653 del 14 dicembre, ma come per il DAX possiamo parlare anche qui di sottorange tra 7.350 sempre e 7.479, per cui anche qui dobbiamo ancora aspettare un chiaro segnale direzionale per poterci esprimere su dove andrà, per esempio, il Caccarant. La configurazione tecnica dell'Eurostoxx 50 è piuttosto simile a quella del Caccarant, il turning range è compreso tra 4.418 e i massimi pluriennali del 14 dicembre di 4.593. se invece vogliamo ridurre in un sotto turning range prenderei sempre il 4.418, ma mi darei come massimo i 4.515, massimo del 3 di gennaio. Eurostoxx banks, le banche stanno continuando a soffrire in questa fase, direi che dopo il minimo di oggi è a 118.09, la chiusura a 118.66, potrebbe tornare a 117.93, poi 117.3, 117.15, 117.07. Veniamo al Futsimib Futures, anche qui continua a essere sempre all'interno del trending range compreso tra 30.075 e 31.025, questa seduta allontana leggermente la possibilità di tornare sui massimi del box di congestione, quindi verso i 31.025, è più probabile in questo momento un ritorno magari a 30.255, 30.140, però ovviamente dovremo verificare domani con l'apertura dei mercati azionari americani, è questa mia ipotesi. Mid cap, devo dire, molto vicino ai massimi di periodo, in questo caso il range lo vedrei tra 43.121 e 44.918, ma c'è addirittura un micro range da ormai 5 sedute tra 43.951 e 44.485, lo star a livello di range più ampio abbiamo 45.965, 48.137, potremmo ridurlo tra 45.965 e 47.486, diamo uno sguardo ai volumi, vedete che oggi i contratti FIB sono crollati, 9.450, ne avevamo più di 14.000 venerdì come anche giovedì, quindi ci sta, per carità però, è stato abbastanza sensibile il calo, scambi, vi dicevo, 1.7 miliardo, prima delle aste 1.384 miliardo, adesso, prima di iniziare col FUTSIMIB, faccio un'escursione, una, diciamo, sconvolgo leggermente il nostro palinsesto quotidiano perché voglio proprio soffermarmi su quanto accaduto su Dovelio. Il titolo oggi ha dato un segnale a dir poco terrificante, ha rotto nettamente il massimo storico toccato il 30 di novembre a 2.93 e ha chiuso addirittura proprio sui minimi di giornata, che sono i nuovi minimi storici, a 2.46 con volumi in forte crescita perché ha scambiato quasi 4 milioni di pezzi. Partiamo dalla notizia che vi avevo già fatto vedere questa mattina, c'è questo nuovo rendicontazione contabile IAS 34, poi magari chiederò aiuto a Gabriele perché in autonomia tanti anni fa, dopo un po' di tempo, ero riuscito a capire le dinamiche del IFRS 16, io vi ricordo che sono un umile manovale che ha deciso di non lavorare e di conseguenza di lavorare e di non studiare, non fare università, lo dico sempre quando mi chiamate dottore, in realtà è un titolo che io non posso, del quale non posso freggiarmi, però da autodidatta ho imparato moltissimo e siccome ogni tanto tengo delle lezio magistralis all'università, grazie al mio amico che saluto il professor Andrea Paltanieri all'Università Cattolica di Milano, ma le ho tenute anche all'Università di Genova alla Facoltà di Economia e devo dire che comunque un minimo di preparazione negli anni penso di averla raggiunta, però devo ancora capire bene questo IAS 34, fatto si sta che sono state svalutate queste attività nella penisola iberica e questo ha portato purtroppo a una perdita di bilancio significativa perché comunque da un valore positivo siamo passati a un valore piuttosto negativo perché vedete che avevamo un risultato positivo per 5,7 milioni, se considerate che la perdita è 36,7 milioni ovviamente, cioè l'impatto negativo è di 36,7 milioni, capite che il mercato era normale che potesse prendere in maniera piuttosto negativa la notizia. Io mi sono fatto ingannare da due cose, primo che ho letto anche qui sotto che comunque Dovelio tramite la controllata spagnola Dovelio Spain Spain Servicing SA vanta un credito nei confronti di Altamira Asset Management Holding e la società ha dichiarato che questi 22 milioni di credito minimo che ha ottenuto tramite un sequestro preventivo dovrebbe incassarli nel primo trimestre 2024. Allora siccome ho visto il titolo aprire non malissimo ho pensato erroneamente che potesse tenere, infatti non è crollata subito, ci ha messo un po' di tempo a crollare. Poi il titolo a quel punto io non avendolo chiuso in apertura che a posteriori era l'unica soluzione valida per evitare una grossa perdita. Infatti la cosa che mi ha fatto più piacere, non essendo io uno invidioso, è che ho ricevuto 4 o 5 messaggi privati per ringraziarmi che questa mattina avevo segnalato la notizia e avevo comunque acceso un alert per coloro che detenevano il titolo in portafoglio. Cosa ho fatto? Ho detto stoppare il titolo a questo prezzo sicuramente è molto oneroso sia economicamente relativamente per chi fa questo mestiere come me da oltre vent'anni, ma mentalmente non è piacevole perché comunque fino a venerdì era una società a rischio di fare nuovi minimi storici, ma era giusto provare a mantenerla. Allora ho fatto una scelta, non voglio dire coraggiosa, ma a mio avviso sensata, avevo solo mille azioni, a un prezzo medio di carico di 3.2, ho chiuso comunque in perdita in asta finale, quindi peggio di così non potevo chiudere. Poi non mi è piaciuto per nulla, poi magari domani riparte il movimento che ha fatto oggi Iveco, Iveco è andato a fare un massimo di periodo 9,78 e 8 e ha raggiunto il primo dei target rialzisti che avevo dato io a 9,66,4, però poi ha chiuso a 9,44,2 chiudendo il gap lasciato aperto a 9,48,8 sul massimo ieri e quindi disegnando ho fatto una sorta di ops ribassista, probabilmente la notizia è stata quella che anche Deutsche Bank ha alzato il rating a buy da hold e il target price da 10 addirittura a 13, però ho fatto questo calcolo matematico, ho fatto prima con la calcolatrice. La perdita di mille do value mi è costata 740 euro, lo stop profit su Iveco mi ha reso 882 euro, avevo mille do value e 600 Iveco perché è fondamentale in un portafoglio di medio lungo periodo avere i pesi corretti, do value un titolo che sapevo essere più rischioso, quindi avevo solo mille azioni per cui un investimento di 3.200 euro, Iveco avevo 600 azioni che è un investimento di poco inferiore ai 5.000 euro perché ho pagato il titolo poco meno di 8, quindi facendo il calcolo 882 più Iveco 740 meno do value sono riuscito a uscire con un guadagno tra le due operazioni di 142 euro, non serve a nulla, non è che questa sera io sia più ricco, sia più felice, però mentalmente è stato molto importante riuscire a compensare con un'operazione che comunque ci sta, non è una forzatura. Io qui posso dire sotto il massimo di venerdì applico uno stop profit rigido, poi il titolo può anche ripartire e tornare a 9.946, ma mi è servita questa operazione per riuscire a rimediare a un errore che poi si è rivelato fatale di non aver chiuso do value in asta di apertura, perché ci ho pensato ripetutamente, poi ho letto bene quella parte del credito da 22 milioni, ho visto che non era nelle ultimissime fasi di preapertura così venduta, ho detto magari questo credito compenserà le svalutazioni nella penisola iberica, invece mi sono sbagliato, ne ho preso atto, ho preferito chiudere perché per quanto mi riguarda, adesso ovviamente può andare dove vuole, dove è, ma visto che ha chiuso sui minimi e visti gli enormi volumi che ha scambiato, non mi stupirebbe anche che potesse proseguire a ribasso anche domani e nelle prossime sedute finché non trova una nuova base. Veniamo però adesso ai titoli del Fuzzimib che si sono mossi meglio e quelli che si sono mossi peggio. Montepaschi, allora qui c'è un tema banche di cui parlare, sto vedendo una minore forza, per alcune anche una debolezza sul settore bancario, compensata però da una certa forza che vedo invece nel segmento del risparmio gestito. Montepaschi, io qui coerentemente con l'analisi che ho pubblicato sabato, anzi domenica perché me l'ero dimenticata, avevo caricato un layout sbagliato per il Fuzzimib, 3,059, 3,04, oggi ha quasi raggiunto la media mobile a 50, 3,063, ha fatto un minimo a 3,069 e poi secondo me c'è spazio ancora per 3,297, 2,93. Vedo il titolo ancora potenzialmente scendere. Saipem, qui c'era la notizia della inibizione per due anni per poter partecipare a gare con la pubblica amministrazione in Brasile. Oggi ha dato però un segnale comunque di tenuta perché ha fatto un hammer dopo un minimo a 1,39,4 ha chiuso a 1,41,6 sopra la media mobile a 200 che è 1,41,55, però il rischio è ancora che possa ritornare a 1,37,95, 1,36,7. Dovesse con mia sorpresa invece rimbalzare ritengo che non andrà oltre 1,47, poi il massimo del 10 gennaio 1,48,25. Pirelli la vedo quella di oggi che è sostanzialmente una Marubozzo Black come una discesa fisiologica dopo il rally di breve. Se dovesse andare a 5,17,4 ma anche a 5,12 non mi preoccuperei più di tanto. Sotto 5,12 invece diventa un po' più problematica la situazione perché si ritorna a 5,024 e poi a chiusura del gap sul massimo dell'8 di gennaio 4,98,4. Anche ricordati, ritengo quella di oggi come una correzione fisiologica, ha fatto un nuovo massimo di breve periodo, anzi massimo di periodo ma non vedeva questi livelli praticamente dalla seconda metà di gennaio del 2022. A 51,18 poi ha chiuso a 49,99, l'importante è che non perda 49,38. Diversamente non cambia nulla e potrebbe ancora avere un ultimo spunto rialzista fino a 51,9. oltre come dico spesso sarebbe un rischio di boot trap. Ferrari, allora avrei potuto chiudere anche Ferrari oggi, in realtà qui avevo o prezzo di carico meno brillante rispetto a quello di Iveco, siamo attorno a 303, anzi ve lo dico con precisione, non scusate 305, 305.1. Perché non ho voluto ancora chiudere? Perché ho notato ancora un'impostazione rialzista su indicatori oscillatori, sia stocastico che MACD che RSI, quindi ho deciso che mi chiuderò se dovesse andare a chiudere il gap lasciato aperto a 311,3 e poi proseguire a ribasso. Questo perché ho fatto questo ragionamento che mi è stato anche suggerito da un mio contatto. Oggi in effetti è chiuso anche il mercato americano, quindi aspettiamo di vedere domani come reagisce il titolo e peraltro se mi chiudessi anche a 310 riuscirei a non perdere e qualche volta bisogna anche provare a diciamo essere un pochettino più magari arditi nelle proprie scelte, quando si riesce comunque a limitare i danni. A2A, la discesa di oggi che è arrivata fino a 1,83 e 2, poi con una chiusura per l'altro con un mini hammer a 1,85 e mezza, è dovuta al fatto che sono uscite delle indiscrezioni per cui il comune di Milano non potrebbe cedere una quota della società. Diciamo che io mi preoccuperei solo sotto 1,82,6 e direi che c'è sì la media mobile a 100, ovvero 1,81,65 e poi 1,78,2 minimo del 14 di novembre. Amplifon, ne faccio un po' di fuzzimi perché comunque anche Amplifon è in una situazione delicata perché dopo la Shooting Star di venerdì massimo a 32,43, chiusura a 32, oggi fa una long black, diciamo che se dovesse perdere a 31,25 è facile, un ritorno a 30,82, ha un micro gap da chiudere a 30,75, la media mobile a 200 e 30,74,6 e poi c'è 30,1, minimo del 5 di gennaio. Poi Stellantis oggi ha dato un segnale piuttosto negativo, direi che potrebbe nelle prossime sedute tornare a 20,03, 19,808, 19,75,2 avendo la media mobile a 50 a 19,93. Poi continua la debolezza su Campari, oggi rompe nuovamente a ribasso, ma vi avevo già detto che questo rischio poteva tranquillamente verificarsi e i prossimi obiettivi sono 9,084,8,96 e 2. Lì credo che una base la possa anche fare. Non mi è piaciuta nemmeno Interpan perché sembrava aver dato un bel segnale nella seduta di venerdì, oggi invece perde nuovamente la media mobile a 100, dopo aver fatto un massimo in 3,47,25, sicuramente il titolo deve riuscire a prendere una direzionalità, adesso rimane in un ampio training range compreso tra 44,66 e 47,38. Poi guardiamo Diasorin, io sto continuando a mantenerla ma ho uno stop sotto 87,22, sotto 87,22 potrebbe arrivare a 84,5 e poi a 83,82. Anche Leonardo oggi, ecco oggi per esempio anche se indicatori oscillatori non danno ancora un pericolo di forti ribassi, però questo engulfing bearish per me sarebbe stata sufficiente per applicare uno stop profit sul titolo, per evitare un ritorno a 16,61 e poi 16,36, 16,35 e mezzo. Poi Nexi, Nexi anche qui ha un po' deciso il trend di breve, la long black di giovedì a 7,42, ma chiusura a 7,14, adesso direi che il titolo rimane in training range tra appunto quel massimo, 7,42 e 6,95 e 2. Tenaris, qui vi avevo detto come il titolo potesse continuare a scendere, oggi è ritornata sulla media mobile a 214,41,8, prossimi obiettivi, vabbè 14,39 può farlo anche domani volendo un po', sono questo doppio minimo allineato, questo 14,105 e 14,1. Poi voglio fare ancora banco BPM perché vedete quanto sia peggiorata la situazione sul settore bancario, oggi è rimbalzato dal livello da cui doveva rimbalzare, poteva essere 4,662, ha fatto 4,667, poi un hammer a 4,74,6, però sinceramente al di là della chiusura leggermente inferiore alla media mobile, a 104,767, ha chiuso a 4,74,6, potrebbe anche dover andare fino a 4,58 per trovare una base. Poi faccio ancora Prismian perché siamo in area di massimi storici, massimi storici li ha toccati il 2 gennaio a 42,04, quindi direi che per il momento vale il training range tra 42,04 e 39,81. Concludo con Telecom che sembra voler continuare la sua fase di discesa, oggi ha quasi raggiunto 0,28,04, ha fatto 0,28,06, prossimi obiettivi 0,27,75, poi 0,26,95, media mobile a 100, 0,27,81, media mobile a 200, 0,27,28. Titoli che invece si sono comportati bene, come vi dicevo, risparmio gestito, ottima banca Mediolanum, lascia un gap aperto sul massimo di venerdì 8,89,4, massimo 9,148, chiusura a 9,102, direi che rimane ormai come obiettivo 9,47 massimo della seconda settimana di marzo del 2023. Poi si è difesa Inwit che però è in un chiaro trading range compreso tra 11,16 e 11,67. Poi benino le utilities perché la triade, parlo di Italgas, Snam Eterna, ha avuto un incremento di target a parte di Deutsche Bank. Italgas 6 da 5,70, Snam 5,40 da 5,20, Terna 7,70 da 7,50. Bellissima rottura di Italgas, A questo punto direi che il primo obiettivo è 5,37 e mezzo, ma è veramente un obiettivo alla portata, molto vicino, e poi direi 5,43 e mezzo massimo del 27 di luglio. Poi ci potrebbe essere spazio ancora per un 5,46 e mezzo. Veniamo anche a Snam, poi magari facciamo anche Terna e direi che anche qui c'è una bella rottura a rialzo e il primo obiettivo diventa 4,96, poi chiusura del gap lasciato aperto sul minimo del 16 di giugno che è proprio 5 e quindi 5,10 massimo di quella stessa seduta. Faccio anche Terna per far vedere che anche Terna, seppur in maniera leggermente meno dirompente, ha rotto a rialzo, 7,83,8, 7,88,2, 7,89,6 i prossimi obiettivi. Poi sempre in tema risparmio gestito facciamo ancora Azimut che è tornata quasi sui massimi di periodo a 25,05 ma poi ha disegnato una shooting star quindi per Azimut per il momento la candela benchmark e quella di giovedì dall'ampio range di 24,05, 25,11. Chiudo il Fuzzimib con Banca Generali che prova a rompere a rialzo facendo però una spinning top massimo 34,62, chiusura 34,41. Diciamo che la rottura definitiva avverrà sopra 34,70. Se dovesse rompere anche 34,70 probabilmente potrebbe arrivare fino a 34,97 e poi a 35,64. Adesso trasferiamoci al di fuori del Fuzzimib. Cominciamo in questo caso con i titoli migliori perché ce ne sono alcuni molto significativi. Allora vi faccio vedere ma soltanto perché era notiziata res però attenzione non fatevi ingannare anzi questo vuole essere un monito perché è vero che il titolo fa più 14, 4,83, 4,95 ma attenzione che tra l'altro è a questo punto è veramente alla portata il 5,08 poi i massimi storici 5,44 però in realtà vi ho voluto far vedere il titolo per diffidare di questi movimenti perché comunque ha scambiato solo 3,483 pezzi per cui potrebbe anche rimangiarsi il movimento. Solid World, ecco Solid World il titolo ha chiuso con una Doji dopo un massimo a 4,71 chiusura a 4,48 non ha lasciato gap aperti sinceramente non mi è piaciuta molto la comunicazione da parte della società perché praticamente questa mattina c'è stato un comunicato stampa molto diciamo ambizioso soprattutto per gli investitori perché quando tu vediamo anche qui si assicura commessa internazionale milionaria nel fotovoltaico e non c'è scritto di che importo si tratti poi non so se Borsa Italia lo ha pubblicato più tardi perché la società comunque ha voluto ecco l'integrazione 1525 l'ha pubblicato anche Borsa Italiana ecco che cos'è che mi permetto di contestare che non puoi mettere milionaria quando concettualmente giusto è non è non è diciamo non c'è nessun illecito però io non mi aspetto 1,4 milioni mi aspetto una commessa da 4 5 8 milioni non lo so molto grossa e infatti poi il titolo ha chiuso con una doge a 4 48 non vuol dire perché il segnale comunque di tentativo di rottura è stato ugualmente piuttosto importante però diciamo che se secondo me avessero indicato subito 1 milione 4 a 4 e 71 non sarebbe arrivato comunque è ancora possibile un interiore spunto a rialzo con un target a 4 85 e mezzo 4 92 e mezzo eventualmente a questo 5 0 7 però diciamo che sono rimasto un pochettino deluso perché ritengo che sia giusto hai l'importo della commessa lo pubblichi e poi il mercato dirà se vale la pena comprare ulteriormente il titolo o se valuta che sia una cosa tra virgolette normale. Anche Omer è notiziata, abbiamo già anticipato come siano state veramente tante le notizie sui titoli di fuori del Fuzzimib, il siglato contratto per l'affinatura di componenti a redo di carriature per 40 treni Frecciarosse TR1000, titolo che ha aperto in forte gap, vedete gap lasciato aperto a 3 poi massimo in 3 a 3,84 ma chiusura a 3,18 in questo caso interessanti i volumi e ritengo che ci sia ancora spazio eventualmente per un ritorno fino a 3,43 massimo della seconda settimana di luglio del 2022. Poi Clean B&B, Clean B&B è stata veramente molto strana in periodo perché erano usciti quei dati di ricavi preliminari molto lusinghieri, titolo che ha fatto rally da 1,03 arrivato fino a 1,38 e mezzo, poi violenta correzione fino a 1,12 e adesso due sedute consecutive di acquisti anche decisamente significativi perché oggi per esempio sono passate di mano 345.600 azioni. Un ritorno a 1,38 e mezzo è assolutamente alla portata, già oggi è andato a sopra 1,35, poi direi che l'obiettivo è 1,41 e mezzo, infine 1,55. Anche Altea Green Power era notiziata, credo che sia uscito poco dopo le 15 il nuovo piano industriale, guardiamoci assieme comunque, ah no forse l'avevo aperto già, scusatemi, comunque guardiamo lo stesso l'orario perché così imparate un po' diciamo a utilizzare borsa italiana, poi questa ovviamente era meglio averlo in tempo reale, vedete proprio le 15, dati mi sembrano molto ambiziosi, soprattutto il target del 2028, un EBITDA 37,43 milioni, altissimo l'EBITDA margin, una cassa positiva per 48 milioni e il mercato ha preso benissimo questo nuovo piano industriale, praticamente questo è un uncino di Ross, nuovi massimi storici 8 Euro per cui nulla da dire. Per quanto riguarda invece Lindbergh è sostanzialmente una continuazione del movimento iniziato venerdì con la pubblicazione della notizia di questo fondo americano che ha comprato a mi pare peraltro a 2,20 di media, poco più del 3% del capitale. Mettiamo un attimo un time frame mensile e addirittura siamo arrivati a nuovi massimi storici perché i precedenti erano a 2,40, quindi ottime notizie per chi ha mantenuto Lindbergh. Poi vi segnalo, ma per me al momento non cambia nulla, un rimbalzino di Compagnia dei Caraibi. Ovviamente io finché non si sarà risolta la questione debito e pagamento di elefangimi non la farò, però qui devo registrare che poco sotto 1,90 sta provando a fare base. Poi un titolo che dopo mi sembra fosse il dividendo straordinario, se ricordo bene, Mittel continua a essere veramente ben comprata, siamo in questo caso su una rottura dei massimi con un nuovo massimo 1,86 chiusura a 1,85, dobbiamo addirittura mettere un mensile per vedere che il titolo può tornare tranquillamente a 1,87, ma credo subito, nel senso anche già domani, poi direi 2,14. Torniamo a livelli di agosto 2021. Poi fatemi vedere sempre molto interessante il comportamento di autostrade meridionali, qui ci troviamo sui massimi di periodo, direi che c'è un tentativo di ritorno a 22 sul massimo del 9 di gennaio, mettiamo un attimo un settimanale per vedere che poi il target è addirittura 24,8 massimo della terza settimana del del 2000 e di aprile del 2023. Poi bene anche Piaggio, direi che questa volta siamo di fronte a una rottura veramente molto chiara, prossimo obiettivo 3,14,2, poi direi 3,32,6, avendo la media mobile a 200, a 3,32,8, tanto che ci siamo, facciamo anche INSI che controlla Piaggio, anche INSI si sta preparando almeno a tornare sui massimi di periodo per cui 0,58,8 massimo del 21 di dicembre, mettiamo un settimanale per vedere che il prossimo obiettivo potrebbe essere 0,605, poi abbiamo 0,62,7, 0,64 e 1, quindi 0,65 e 4. Poi INNOVATECH anche qui il titolo notiziato, andiamo a vedere assieme la notizia, INNOVATECH lancia la start-up POLIVOLT, ovviamente sono notizie diciamo che possono far partire il titolo, però non mi sembra che ci sia poi, ci sono particolari elementi se non il discorso della sostenibilità ambientale, economia circolare eccetera eccetera, per me il titolo aveva bisogno di un pretesto per rimbalzare, oggi ha fatto fino a 1,31, poi ha chiuso sotto la media mobile a 200, 1,29, la media mobile a 200, chiuso 1,27, 1, però posso dire che un ritorno a 1,34,2, 1,36,7 è sicuramente possibile. Molto bene l'automatica, molto bene l'automatica, addirittura qui il titolo sembra voler tornare sui massimi storici che sono stati a 10,02, vedete, quindi molto interessante, per adesso è in un ampio turning range compreso tra 9,42,6 e 10,02, mi sembra che voglia tornare sui massimi storici e provare anche a romperli. Poi vediamo Salcev, qui siamo in un ampio turning range su massimi di periodo, direi che il range è 22,95, 24, anzi scusate 25,05 e sembra voglia portarsi nella parte alta del range, bene anche un euro, vi avevo detto che non vedevo grosse possibilità di ribasso nonostante non siano stati così brillanti, non siano state così brillanti le stime sui cavi preliminari pubblicate venerdì peraltro attorno alle 17, siamo ancora in tre range 9,67 e mezzo, 10,69, ma sembra volersi portare nella parte alta del range e provare addirittura ad andare a rompere al rialzo e quindi raggiungere 11,17, massimo della seconda settimana di maggio dello scorso anno. Un altro titolo che oggi è stato ben comprato è Mondadori, qui c'è stata una rottura molto importante, massimo giornata 225, chiusura 223, praticamente ha fatto il massimo del 14 di luglio dello scorso anno, c'è ancora la possibilità, siamo veramente vicinissimi, 227, 227,5, ho dovuto mettere anche un mensile per probabilmente direi 255, 2,58 per quanto riguarda Mondadori. Poi ancora WeBuild, qui direi trading range ampio tra 1,79 e 1,92, però oggi segnale importante perché il titolo fa quasi una Marubozu White, supera la media mobile a 50, 1,83, 8, quindi direi che 1,92 è assolutamente la portata, su time frame settimanale potrebbe arrivare fino a 1,96,4, poi 2,076. Poi vediamo anche l'UVE, l'UVE direi che siamo in trading range tra 21,7 e 24, direi che 25,35, 25,53, media mobile a 200 sono i target in caso di rottura di area 24. Poi diamo uno sguardo anche a Castadiva, che sembra stia accumulando, quindi se dovesse rompere 1,34 può sicuramente tornare a 1,37, poi 1,42 e mezzo, 1,46, quindi 1,51. Poi bene di periodo, l'abbiamo già visto diverse volte, Farmacosmo, oggi fa una Doji, massimo 1,025, chiusura 1, però potrebbe ancora fare un ultimo spunto rialzista, direi fino a 1,10, 1,15, 1,21. Poi fatemi vedere, perché oggi l'ho perso un po' di vista Italian Exhibition Group, nuovo massimo di periodo a 3,50 dopo la rottura di venerdì, chiusura a 3,43, mettiamo un settimanale per vedere che a questo punto rimane come obiettivo 3,68, massimo della seconda settimana di maggio del 2021. Poi probabilmente in scia a Altea, oggi ha tenuto il livello Redelphi, 7,74 è il minimo della congestione libera, ha fatto 7,76, poi ha chiuso a 7,96 disegnando una Doji, qui vedo un po' più a rischio, che il titolo possa correggere, insomma con un target sui 7,10 e poi eventualmente 7,6 e 48. Poi facciamo ancora TXT, veramente bene, Long White Target praticamente centrato a 21, oggi ha fatto 21,05, anche se poi ha chiuso a 20,70, c'è ancora la possibilità di tornare a 21,6, 21,85, 21,9. Poi anche Gas Plus oggi è stata abbastanza comprata, nel senso che mi dà l'idea che finalmente possa iniziare quanto meno un rimbalzo, con primo obiettivo 2,63, 2,66, e mezzo, poi 2,67, e mezzo, quindi direi 2,75. Poi vediamo Valsoia, titolo che è pronto ancora per accelerare il rialzo, arrivare in area 9,70, e poi a 9,90, 9,92. Facciamo ancora Cembre perché è titolo che oggi fa nuovi massimi storici a 38,4, io però se avessi titolo già sotto 38, utilizzerei uno stop profit. Poi siccome ce ne eravamo occupati di recente, ritorno su Olidata, oggi sembrava voler partire, perché ha fatto un massimo a 0,54, poi ha chiuso a 0,52, e mezzo, per il momento vale ancora il discorso del trading range tra 0,49,2 e 0,58, e mezzo. Adesso veniamo ai peggiori. C'è un altro tema dopo The Value significativo che è Rayway. Rayway praticamente ha fatto una chiusura sui minimi di giornata, adesso voglio andare a vedere R, W, Y da sfera, perché è stata sospesa tantissimo e ha fatto un'asta finale in profondo gap down, è stata sospesa dalle 9,30 di questa mattina. Poi io, sono sincero, avevo un po' di ordini in macchina, non sono riuscito a cancellarli, perché in Interday cerco di andare a leva massima, non l'ho mai negato, se no un chip a 4,13 l'avrei anche provato, perché Rayway ha avuto una giornata contrastante a livello di notizie, perché se prendiamo questa della sospensione, che peraltro è uscita venerdì a borsa chiusa, di una società controllata, seggi dal portale ai fornitori di RFI, è una brutta notizia, però nel primo pomeriggio alle 13.21 è uscita la notizia di questa commessa da 62 milioni di Euro, per cui secondo me quest'asta ci poteva anche stare, anche se non nascondo che graficamente il titolo potrebbe arrivare anche fino in area 3,80, però un chip per vendere domani in giornata fossi riuscito a liberare un po' di liquidità, l'avrei assolutamente provato. Poi vediamo un po' di fare, vabbè, Fidia ve la faccio vedere ancora, ma perché per farvi capire quanto non vendere un minimo storico può essere pericoloso, anche Mondo TV continua a deludere, oggi lascia un gap aperto a 0,27,55, raggiunge quasi il primo obiettivo di 0,25,45, ma essendoci le obbligazioni convertibili, come vi ho già detto, può tornare anche a 0,23,8, ma anche sui minimi storici a 0,22,15. Oggi è uscito un internal dealing, mi sembra, di Corradi, diamoci uno sguardo, però io ho già detto in più occasioni che la società si è un po' giocata, la credibilità con la famosa svalutazione della library, poi la famiglia, Matteo Corradi e sua madre continuano a comprare azioni, però diciamo che ormai purtroppo quello che è accaduto, poi 10.028 non è che cambino chissà come la situazione. Poi è venuta giù oggi Tecma, direi che al momento non è successo nulla di sconvolgente, deve però assolutamente tenere 2,52, quindi vediamo nei prossimi istituti, adesso è come se fosse in un trade range stretto tra 2,66 e 2,96. Poi Lemon Sistemi. Lemon Sistemi, ecco adesso è una situazione delicata, perché se dovesse perdere il minimo di oggi 2,35, ha un gap da chiudere a 2,16 e poi il minimo storico che deve essere il primo giorno di quotazione a 2,06. Poi è in una situazione abbastanza difficile i 2A, perché oggi rompe a ribasso e ritengo possa tornare fino almeno a 1,44,4,1,41 e poi 1,36. Poi Safiro. Ecco, Safiro oggi è stata venduta, però è candela in sight. Pur avendo fatto meno 4, ritengo sia ancora possibile un ritorno fino a 1,02, poi sulla media mobile a 200, 1,051. Poi vedo un po' di vendite sul centrale del latte d'Italia. Direi che ha poi fatto un hammer dopo minimo a 2,94, chiusura a 3, ma qui siamo adesso in un trading range tra 2,92 e 3,16. Poi altro titolo che vi ho detto in questo momento di non toccare HFarm, mennesimo nuovo minimo storico a 0,13, poi per carità ha fatto l'hammer, ma comunque è un nuovo minimo storico. Ancora Expert AI, che questo vi avevo già detto, come il titolo potesse tornare a 0,85,8 e poi 0,81, 0,802. Poi in questa fase non mi piace molto nemmeno Tessellis, oggi ha chiuso sopra quello che io ritengo il punto di non ritorno per il breve 0,55,3, però diciamo che sotto il minimo oggi 0,54,3 io vedo il titolo almeno a 0,507 e poi a 0,47,15. Poi ecco, ho chiuso in stop profit Ariston, ha perso la rialzista, partita dal minimo del 13 dicembre e ho visto un tentativo di prime divergenze ribassiste sia su MACD che su RSI, c'è un target qui sulla media mobile da 100, 6,1, poi c'è 5,97 e mezzo, 5,96 e quindi direi 5,87. Avendo io il titolo in carico a 5,80 ho preferito portare a casa un po' di guadagno. Poi continua la fase di discesa su Eurotech, Eurotech bisogna che trovi una sua base e direi che questo livello potrebbe essere 2,14 come primo, 2,14, 2,15. Poi se non dovesse bastare 2,14, 2,15 direi 2,02. Direi anche che continua la fase di correzione su Fae Technology. Oggi ha fatto l'ammerino, ma non mi stupirebbe vedere il titolo a 2,75, 2,64. Poi sempre in difficoltà Antares, oggi fa nuovo minimo di breve periodo 1,55, 2, a questo punto sarà decisiva la tenuta dei minimi storici a 1,33,4. Poi Acquafil è stata venduta oggi, ma semplicemente continua a essere spinta dalla media mobile a 200, che è a 3,45, il segnale di uscita ci sarà sotto 3,24 e mezzo, 3,18 e mezzo. A quel punto potrebbe tornare almeno a 3,03, poi a 2,95 e mezzo, avendo la media mobile a 50, a 2,98 e 8. Poi mi avete chiesto nei commenti al Titalia, ma come ho già detto non vedo ancora la voglia di rimbalzare, potrebbe arrivare direi a 1,045, 1,025 poi fino a 0,98 e 6. Non mi è piaciuta nemmeno la seduta di BS, BS oggi quasi Marubozu Black, ha molto vicino al minimo di oggi la media mobile a 2,11,93,6, sotto questo livello può arrivare a 1,167, minimo del 5 di gennaio. Poi continua sempre a soffrire Digital Bross, io sto continuando a mantenere, però dovrò valutare uno stop, potrebbe essere anche 9,70, 9,63, vedrò un attimo come gestire la posizione. Poi WIT, oggi è stata venduta e anche qui c'è una media mobile a 200 che fa da supporto perché abbiamo 18,13, a 18,02 c'è anche la media mobile a 50, sotto questi livelli direi che 17,82, 17,60, poi 17,34, 17,24. Trend device male anche oggi, però qui come vi ho già detto fino a 0,26 la posizione va tenuta, non è ancora detto, adesso siamo in un trading range tra 0,26 e 0,30. Poi vediamo ancora qualcosa, ecco, altro titolo che ho chiuso in stop profit, Tavio, ho bruciato un po' di guadagno, io avevo il titolo a 8,10, però sinceramente dopo aver perso, ecco, dopo lo spike di giovedì a 8,32, dopo aver perso oggi così nettamente la media mobile a 200 che transita a 8,70 ho preferito chiudono per evitare un 8,32, 8,25 e poi potrebbe essere messo in conto un ritorno sulla media mobile a 108,066 e poi 7,99 che è il minimo del 27 di dicembre. Vediamo se c'è ancora qualcosa che meriti di essere analizzato, direi, visto che qualcuno magari lo ha mantenuto, che Snowland sembra indirizzata a tornare prima su area 10, poi su questo minimo del primo dicembre 9,79,4, Nulat che però si trova su livelli veramente di massimi assoluti, fatemi controllare ma non credo di sbagliare, quindi ci può stare una correzione, oggi fa un ingolfo in beris, massimo 8,20 chiusura a 7,89, qui può tornare tranquillamente fino a 7,60. Poi ancora Banca IFIS qui sembra voglia tornare prima a 15,43, in realtà sullo stesso livello praticamente c'è la media mobile a 200, poi 15,26 quindi 14,73 minimo del 26 di ottobre. Poi Fiera Milano sembra voglia finalmente iniziare una fase di consolidamento, quindi se dovesse perdere 2,77 può tornare tranquillamente a 2,63 minimo del 29 di dicembre. Poi attenzione dei longhi, mi ha segnalato Fabio che ringrazio, non ancora ha avuto il modo di aprirgli che stanno uscendo molti internazioni di vendita di soggetti rilevanti, qui il titolo credo che 29,4 29,08 ma anche fino a 28,66 minimo del 3 gennaio possa tranquillamente tornare. Ci può stare dopo il rally di venerdì un ritracciamento su Farmanutra, il massimo di oggi è corrispondente al massimo di venerdì quindi comanda la candela di venerdì quindi candela benchmark è 61,157. poi vedo CIR un po' di volumi su CIR ah fatto l'Hanging Man bel minimo oggi a 0,408 poi chiusura a 0,41,7 qui mi pare che ci sia il rischio di un ritorno a 0,403 e poi a 0,40 comunque poco sotto il minimo di oggi c'è anche la media mobile a 100 che è appunto 0,407 probabilmente prese di profitto su fila dopo il rally delle ultime due sedute per i buoni risultati conseguiti dalla sua controllata indiana quotata di recente qui torna attuale il trading range tra 8,50 e 9,15 poi GWS ci può stare una correzione dopo il rally di breve siamo in un ampio trading range compreso tra 4,89 e 5,81 vediamo se troviamo ancora qualcosa di interessante direi IGD siamo pronti per una fase di correzione primo obiettivo media mobile a 50 222 poi 2,19 minimo del 14 dicembre e poco sotto c'è la media mobile a 100 2,16 e 9 ma potrebbe arrivare il titolo anche a 2,12 e mezzo poi vedo MFA per quanto riguarda MFA il rischio è di vedere il titolo prima a 2,32 2,31 e mezzo poi 2,25 livello dove transita anche la media mobile a 200 poi 2,18 2,16 e 75 MFA qui ci troviamo quasi sulla media mobile a 200 che è 3,25 poco sotto c'è 3,21 e mezzo 3,17 e mezzo poi direi 3,078 considerato che la media mobile a 50 è 3,12 e 3 quella a 100 è 3,0 48 non bene nemmeno Elen Elen eh qua il rischio è di rompere eh 9,305 per riportarsi a 9,11 9 e poi 8,76 e mezzo minimo del 5 di dicembre poi direi che possiamo occuparci ancora di Geox che sembra abbia voglia di rompere questo supporto statico di area 0,70 per tornare 0,67 e mezzo 0,66 e mezzo 0,65 e mezzo bisognerà fare molta attenzione anche i limiti visto quello che è successo ad Oveliu qui il primo campionato di allarme è sotto 5,16 il secondo livello importante è sotto 5,05 poi si va direttamente a 4,87 poi abbiamo ancora Landirenzo che prosegue la sua fase di correzione per cui direi che i prossimi obiettivi sono 0,405 0,40 e poi 0,38 e 85 facciamo ancora direi RCS e Cairo RCS rimane ancora in trading range sui massimi di periodo per il momento range è direi 0,737 0,77 andiamo a concludere con Cairo Cairo invece mi pare abbia voglia di rompere area 1,85 per tornare a 1,81 poi 1,78 1,77 6 per questa sera ho concluso auguro a tutti una buona serata e ci sentiamo domattina prima dell'apertura del mercato diurno